Sarà recuperata e ristrutturata la storica rimessa dei treni della stazione ferroviaria di Caltanissetta, un progetto che ha già preso il via per un ammontare di circa 3 milioni di euro. Da Caltanissetta, dalla stazione centrale, dunque partiranno i treni storici della Sicilia e per la Sicilia, e la struttura li ospiterà. Il finanziamento è di ferrovie dello Stato, un intervento concordato con la soprintendenza, considerato che si tratta di un edificio storico. È un luogo legato anche alla memoria, come ricorda la professoressa storica nissena Fiorella Falci, un luogo che è legato alla memoria di tantissimi ferroviari antifascisti, perseguitati e licenziati dal regime, che hanno scelto la coerenza e la dignità, piuttosto che sottomettersi alla dittatura, così scrive la professoressa Falci. La proposta è quella di dedicare a loro la memoria del luogo. Sarà probabilmente ricavato anche uno spazio culturale, ma questo non è ancora chiaro. La notizia ha aperto un dibattito sui social, dopo che è stata annunciata dal sindaco. Molti chiedevano di impiegare i fondi per altre necessità. I fondi non sono comunali e sono somme vincolate a questa tipologia di progetti che fanno parte del Piano Nazionale di Resilienza, ovvero il PNRR, destinati alla Fondazione Ferrovie dello Stato. Il Comune è solo ospite della struttura e dei lavori.